Di Costituzione se ne è parlato moltissimo negli ultimi tempi e se ne continua a parlare, se ne parlerà anche il 7 di dicembre in Sala del Consiglio Provinciale alla Spezia per un'iniziativa particolare che ricorderà poi i padri costituenti spezzini. Raccontiamo questo evento. È un evento molto simile, però molto importante, perché ricordiamo i tre costituenti spezzini che sono Angela Gottelli e Filippo Verieri e Barontini. La Gottelli e Verieri verranno ricordati dai Gignobanti e Barontini da Pagano. Ma il significato di questa cosa è che noi parliamo della Costituzione, non della modifica della Costituzione che lei diceva. Parliamo della Costituzione reale, quella dei nostri padri. E non a caso nel 1946 viene eletto i padri costituenti, il 2 giugno del 1946. Ecco perché la festa della Repubblica è il 2 giugno. C'è un motivo storico, è anche un motivo pensato, che è importante. Abbiamo invitato tutti i sindaci a venire con la fascia tricolore e a mandare i confaloni, perché credo che sia una cosa importantissima. Che devono sapere i giovani. La Costituzione è il libro più importante che abbiamo noi, ogni paese, e noi ce l'abbiamo noi. L'hanno scritto i padri costituenti. Dal 1946 ci hanno messo fino al 1948 per essere approvata, è omologata dalla loro Presidente della Repubblica. Col primo gennaio del 1948 diventa effettiva. E l'anno 2017 l'hanno tematico. Mentre quest'anno erano i padri costituenti, l'hanno tematico sarà la Costituzione per tutta la provincia della Svezia. Ecco, ricordiamo allora dove, a che ora e chi organizza. Allora, l'organizza il Comitato Unitario della Resistenza, avviene nel Salone della Provincia, gentilmente concessa. Farà una prolusione il Presidente della Provincia, Massimo Federici, e parleranno poi le persone che ho detto prima. Alle ore 16 nel Salone della Provincia. Tutto qua. Grazie. Grazie. Grazie.